Ciao a tutti, in questo video vi faccio vedere come fare una mascherina per questo momento brutto che passiamo e le mascherine non si trovano nelle farmacie, quindi io sono andata a fare una, questa volta non è usa e getta come quella che vi ho fatto nell'altro video, ma è una mascherina fatta all'uncinetto, quindi come vedete è una mascherina fatta con un doppio strato e all'interno sono andata a mettere un doppio strato di foglia di carta da forno che protegge come sapete dalle goccioline, non protegge al 100%, attenzione non sono mascherine che proteggono dal virus questo ci tengo veramente a dirlo, sono mascherine che diciamo se siamo raffreddati oppure abbiamo sospetto oppure per non essere più sicure mettiamoci le mascherine che è molto meglio, ma non protegge dal virus questo tengo a precisarlo, allora la mascherina, questa che ho fatto io è una taglia che metto io, mio figlio, tutti quanti quindi poi voi andate ad adeguare secondo le vostre taglie allora per fare questa mascherina abbiamo bisogno di un cotone, quindi di un filo di cotone un uncinetto numero 1,5 e delle forbici quindi adesso andiamo a mettere su 60 catenelle quindi se avete bisogno di più lungo o più corto per un bambino voi adeguate diciamo la taglia però la base del lavoro è questo adesso una volta che abbiamo finito le maglie giriamo e andiamo a lavorare adesso tutto il giro cioè tutte le 60 maglie a maglia bassa ecco adesso ho finito il giro andiamo fino all'ultima maglia facciamo una catenella giriamo e adesso andiamo vedete entriamo nella prima maglia ecco qua vi faccio vedere meglio nella prima maglia sottostante vedete andiamo a mettere su andiamo a lavorare 10 maglie basse maglie basse e questa è la parte dove andiamo dopo una volta finito andremo a mettere i laccetti per mantenere la mascherina quindi 10 maglie basse ed ecco qua maglie basse e adesso per 40 maglie andiamo a fare delle maglie mezze una maglia mezza alta su ogni punto quindi prendiamo il filo carichiamo tiriamo e tiriamo le tre maglie quindi 40 maglie di punto mezzo alto adesso andiamo fino alla fine ecco qua 10 punti questi sono i 40 e adesso andiamo a fare di nuovo 10 punti bassi ok abbiamo finito il giro e adesso a questo punto andremo a fare la stessa cosa per ben 22 giri ok come avete potuto come vedete abbiamo fatto 22 giri ecco io li sto contando e questa è la larghezza la mascherina è quasi finita adesso andiamo a finire questo giro con un giro come quando abbiamo iniziato tutte a maglie basse tutto il giro a maglie basse ecco qua andiamo fino alla fine adesso siamo arrivati vedete la punta del lavoro alle estremità e adesso andiamo a fare il laccetto per le orecchie allora io l'ho fatto secondo la mia taglia diciamo voi andate a farli io ne ho messo su una trentina di maglie ecco qua 30 maglie ma voi andate a misurarlo mettete davanti alla bocca girate il laccetto dietro le orecchie e vedete se va bene oppure no se è corta aggiungete delle catenelle quindi per questo fatelo veramente diciamo questa è una base una taglia standard che vi ho dato io però se per una bambina per un bambino più piccolo adeguatelo diciamo alla taglia del bambino o della bambina adesso abbiamo fatto quindi io ho fatto le trenta catenelle mi sono riagganciata all'altra estremità del lavoro e con delle maglie mezze alte vedete le mezze alte bassissime scusate con delle maglie bassissime vado a chiudere il lavoro da questa parte ecco qua adesso vado a rifare la stessa cosa dall'altra parte metto su trenta catenelle mi riaggancio all'altro lato e con delle maglie bassissime vado a a chiudere il lavoro guardate 3 e 4 come volete ecco qua quindi questa è la mascherina adesso andiamo a fare il doppio fondo ok che se no la carta da forno non la possiamo ammettere per proteggerci quindi allora iniziamo dalla parte che abbiamo finito il lavoro non da quella che abbiamo iniziata dalla parte vedete si vede la spiga delle catenelle quindi adesso andiamo a andiamo dove alla base di dove abbiamo fatto le dieci maglie quindi passiamo le dieci maglie e diciamo al pezzo del centro ecco il centro del lavoro andiamo a lavorare delle maglie mezze alte ma queste volte vedete andiamo a prenderle dietro cioè ogni vedete la spiga che si vede non andiamo a prendere tutte e due non agganciamo l'uncinetto tutte e due le maglie ma bensì solo vedete la maglia di dietro perché perché questo perché dopo andremo a piegare diciamo il lavoro ok non so se mi sono spiegata bene vedete prendiamo solo il dietro della catenella ok così quando andremo a piegarlo all'interno si piegherà bene ok vedete io adesso sono arrivato là mi fermo giro e ricomincio però questa volta vedete adesso lavoro normalmente non vado più a prendere solo il dietro perché il giro per piegare l'abbiamo fatto adesso lavoriamo normalmente la nostra maglia mezza alta come al solito ecco e adesso andiamo a continuare così fino a quando arriviamo all'estremità della vedete adesso la pieghiamo vedete come si può piegare bene e arriviamo fino all'estremità della 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 maschera quindi 22 giri più o meno vedete voi perché uno dipende poi come lavora 20 22 giri fino a quando arriviamo all'estremità ok vedete questo io l'ho fatto sono arrivata fino alla fine vedete mi sono veramente appoggiata solo alla fine del giro quindi 22 giri e adesso andiamo a chiudere il lavoro ok allora per fare questo io entro con l'uncinetto davanti al lavoro e tiro il filo mi sono agganciata all'interno e ho tirato il filo a questo punto vado a lavorare delle maglie bassissime ok allora abbiamo finito e adesso andiamo a chiudere anche da questa parte per chiudere da questa parte non usiamo l'uncinetto andiamo a fare con un filo e un ago semplicemente andiamo a chiudere un'estremità e lasceremo aperta quell'altra ecco qua ok vedete e questo è tutto adesso andiamo a rientrare i fili che rimangono che sono rimasti fuori li rientriamo nel lavoro così andiamo a tagliarli e non si sfileranno e facciamo la stessa cosa da tutte le parti dove ci sono i fili ed ecco qua la mascherina è pronta ok vedete adesso come vi avevo detto prima prima scusate vado a prendere ho tagliato un pezzo di carta da forno l'ho piegato in due e vado ad inserirlo all'interno della mascherina e questa carta da forno può servire per 3-4 ore dopo si cambia comunque volevo anche dirvi vedete è venuta proprio bene prima di adoperarla la mascherina andatela a lavare e ecco scusate me ne ho dimenticato questa parte allora io quando ho finito la mascherina ho visto che era leggermente corta sul mento quindi sono andata a fare dalla parte dove abbiamo cominciato a fare la parte sapete per metterla all'interno sono andata a fare ancora un giro di maglia a mezza alta così ha allungato di quasi un centimetro la mascherina così va proprio bene adattata sotto il mento ed è ecco qua questo è il giro quasi finito ecco finisco con una mezza maglia bassa anzi una maglia bassissima due o tre maglie bassissime per chiudere il lavoro ed ecco qua taglio il filo poi vado a rientrarlo come vi avevo spiegato prima adesso lo rientro così siamo sicuri che il lavoro non si disfa non si sfila e come vi dicevo prima prima di adoperare la mascherina andate a lavarla perché comunque è un cotone dopo dobbiamo respirare comunque lavatela ogni volta che la utilizzate nella giornata fatene parecchie così andate a lavarle e la sera vi lavate una e avete subito pronto un altro il giorno dopo fatene a meno due ciascuno e non dimenticate di cambiare la carta da forno all'interno ogni 3-4 ore ok quindi ragazzi speriamo che questo video vi sia piaciuto che sia utile soprattutto io vi mando un grande bacio e andrà tutto bene baci ciao bye